Buon pomeriggio a tutti e un saluto particolare ad Aurelia Orlandoni perché conosco da tantissimi anni per me è come se fosse una special guest quindi scusate questo saluto speciale è tutto per lei e ringrazio tutti per essere qui questo pomeriggio ringrazio l'area 2 il servizio statistico per aver organizzato comunque questo evento imponente e assolutamente di grande interesse e che permette come sempre di far circolare riflessioni che magari derivano dai dati invalsi e che comunque vanno in mille direzioni diverse questo fa diciamo fa sempre molto piacere a noi come istituto essere come dire un istituto di ricerca che attraverso questa grande mole di dati può in qualche modo dare anche un servizio in questi in questi termini allora questo pomeriggio in questa sessione e affronteremo alcune tematiche dal punto di vista dei docenti e una prima riflessione che riguarderà proprio il setting didattico nell'era della pandemia quindi come la did cioè proprio la didattica integrata in qualche modo ha modificato il senso del setting eh docente studenti e quindi sarà molto interessante vedere la lettura di chi eh diciamo eh è protagonista di questo setting eh ovvero il professor eh Gianluca Valle che è docente di filosofia e scienze umane e di scuola secondaria di secondo grado. Successivamente affronteremo un argomento eh diciamo che riguarda prevalentemente la disciplina della matematica e come il vissuto di questa disciplina eh il vissuto della disciplina della della matematica degli studenti viene visto dal punto di vista eh dei docenti e insomma eh sono emersi dati interessanti la ricerca è ancora in corso e però insomma eh già eh ci sono primi esiti che eh sono interessanti da da condividere. Hanno prodotto questo lavoro Michela Freddano ricercatrice invalsi e responsabile dell'area valutazione delle scuole, il professore Ivan Graziani professore di matematica e scienze di scuola secondaria di secondo grado e il professor Stefano Babbini professore di matematica e fisica di scuola secondaria di secondo grado. E come svilupperemo queste due ore? E dedicheremo trenta minuti per intervento e al termine di entrambi gli interventi daremo lo spazio per chi vorrà a confronto con domande o riflessioni rispetto ai contenuti emersi. A questo punto do subito la parola al professor Valle e quando mancheranno cinque minuti al termine della presentazione informerò. Grazie, perfetto. Ehm beh buonasera a tutti e grazie insomma di questa opportunità eh di confronto eh con voi che immagino essere ovviamente colleghi alcuni e e altri invece eh persone che eh ricercatori che lavorano all'interno degli invalsi. Ehm io eh passerei eh ho diciamo cercato di eh concentrare appunto ho fatto delle prove il mio intervento eh per restare proprio eh all'interno dei trenta minuti e e quindi eh comincerei subito a condividere eh lo schermo eh lo vedete tutti vero? Sì. Fatevi un cenno? Ok. Ehm beh allora mh comincerei appunto dal titolo ehm ho dato questo titolo a questo a questo intervento riflessioni eh sulle trasformazioni del setting didattico. Ehm beh come ha già detto ehm la professoressa c'è un altro Giovanni che mi ha appunto introdotto ehm si tratta in effetti di riflessioni che eh sono emerse un po' sul campo eh a partire dal lockdown quello duro che c'è stato a marzo dell'anno scorso e che poi sono continuate insomma eh anche in tempi più recenti con delle modalità eh diciamo di eh non proprio interruzione dell'attività didattica ma sicuramente di profondo cambiamento di quella che era una consuetudine una una certa abitudine a fare scuola e e vorrei appunto soffermarmi su su questi cambiamenti cercare di capire eh quali sono stati e che impatto hanno avuto eh su di me eh che sono appunto l'insegnante ma anche sui miei studenti. Ehm allora il il presupposto diciamo di questo discorso eh è che mh in effetti ehm forse eh in questa occasione più che eh in altre eh ci si è resi conto di quanto la scuola eh sia parte di un tutto. Ehm diciamo che eh in tempi relativamente più tranquilli ehm la scuola ehm intendo tutta la scuola, tutti gli ordini, tutti i gradi di scuola sono, rappresentano un po' dei sistemi eh che funzionano in modo abbastanza autonomo, che sono dotati di regole proprie eh e che quindi in un certo senso eh appaiono come abbastanza protetti eh rispetto all'ambiente esterno. Ma sicuramente eh con gli sconvolgimenti che la crisi pandemica ha determinato eh la scuola italiana non ha potuto eh rimanere indifferente e eh di conseguenza ha scoperto, forse riscoperto eh ancora di più eh di essere solo una parte eh dell'insieme. Noi che ci lavoriamo dentro tanto pensiamo di essere il tutto e invece siamo soltanto una parte eh di un tutto molto più grande. Ehm cosa come diciamo ho voluto intendere il sistema, come ho voluto intendere appunto eh questo questo luogo eh questo spazio, questo tempo nel quale io lavoro insieme ai miei studenti, come un sistema. Ehm che cosa intendo per sistema? Eh beh faccio qui riferimento ad una definizione abbastanza standardizzata eh che è quella del dizionario di sociologia di Gallino eh dove appunto con il termine sistema si intendono delle collettività eh abbastanza strutturate le cui unità costitutive non sono i singoli individui ma i loro comportamenti e le loro interazioni. delimitate da confini attraverso i quali avvengono scambi di risorse ed informazioni con l'ambiente esterno fisico e sociale. Ehm è molto utile secondo me eh pensare alla scuola, alle scuole in termini di sistema perché ehm ci aiuta a capire come ehm all'interno di questo sistema avvengano moltissime interazioni tra moltissimi elementi differenti ovviamente sia all'interno del sistema stesso che anche con aspetti e elementi che si trovano al di fuori del sistema. Ehm inoltre ehm appunto quando sono stato presentato eh beh si è detto che sono appunto un docente di filosofia di scienze umane e quindi chiaramente per me eh diciamo il punto di osservazione che io ho scelto è un po' quello delle scienze umane o della filosofia in senso lato ehm perché ho voluto utilizzare o riutilizzare alcuni concetti che sono anche magari quelli che io insegno ai miei studenti per cercare di capire meglio quello che stava accadendo, quello che stava accadendo a me, intorno a me e a loro. Ehm è chiaro già da molto tempo diciamo per le scienze umane che ehm quando si parla di sistema eh non si parla di eh un rapporto diciamo oggettivo e distaccato tra eh l'osservatore e l'osservato. Ovviamente l'osservatore e l'osservato eh istituiscono un rapporto tra di loro ed è quasi inevitabile che anche l'osservatore introduca eh nel campo di osservazione delle grammatiche, delle categorie eh e diciamo delle risorse concettuali che sono appunto anche le sue. Non si tratta quindi qui di descrivere eh le cose in sé, non si tratta qui di descrivere una realtà oggettiva ma di cercare di interpretarla ehm con gli strumenti diciamo che di cui di cui disponiamo. Ehm allora ehm beh il punto di partenza del del mio discorso è cercare di capire eh come eh la crisi pandemica eh con chiaramente tutto ciò che essa ha comportato eh abbia impattato sul setting didattico. Ehm ovviamente non dirò sicuramente nulla di nuovo ehm nell'arco di di poche settimane eh l'anno scolastico precedente ma ancora di più o in quello in corso eh si sono consumate una serie di rivoluzioni che forse eh non si sarebbero mai verificate o che altrimenti eh avrebbero richiesto tempi e modi molto più distesi. Ehm praticamente tutti gli attori della comunità educante appunto gli studenti, le famiglie, i docenti e gli operatori della scuola sono ancora in mezzo al guado e eh non è facile dire eh se ciò che è accaduto e sta ancora accadendo sia stato eh assorbito o e rielaborato appunto in modo adeguato eh sul piano dei dispositivi istituzionali e delle interazioni umane eh e delle pratiche didattiche. Ehm quali sono queste rivoluzioni eh a cui ho fatto cenno prima? Eh beh eh allora intanto abbiamo dovuto familiarizzare con sigle che eh conoscevamo sicuramente molto poco. Prima DAD eh adesso DDI. Poi abbiamo dovuto cominciare a calcolare distanze di sicurezza eh negli ambienti scolastici e all'interno delle aule. Abbiamo dovuto impiegare eh in modo più o meno massiccio gli strumenti digitali. Abbiamo continuato ad erogare eh formazione a classi interamente a distanza durante il lockdown duro, poi al cinquanta per cento eh in presenza e al cinquanta per cento a distanza. Poi c'è stata anche la fase del settantacinque per cento a distanza e del venticinque per cento in presenza. Eh tutte queste misure che ovviamente erano state prese per la mitigazione del contagio. Ehm tutto questo ha comportato diciamo un un approccio eh molto diverso agli spazi ai tempi della scuola. Ehm si è trattato di eh predisporre protocolli di di protezione e di farli rispettare. Eh si è trattato di eh ribadire di frequente almeno all'inizio adesso ormai la cosa è stata più o meno appresa l'importanza dei cosiddetti gesti barriera. Si è trattato di limitare la socialità all'interno delle aule, dei corridoi. Ehm si è anche tentato di assicurare un tracciamento dei contagi in collaborazione con le ASL. Poi anche questo purtroppo non ha funzionato eh a sufficienza. E quindi ci siamo trovati anche a dover svolgere delle funzioni che francamente per le quali francamente non eravamo pronti in effetti. E poi ehm abbiamo cercato di innovare alla didattica eh all'interno di eh curriculi che talvolta erano troppo rigidi eh cercando di garantire appunto l'interazione eh con gli studenti. Parlo soprattutto della didattica a distanza e tra gli studenti eh ben al di là delle fatidiche ore eh della mattina. Ovviamente ehm l'elenco diciamo dei cambiamenti che sono noti sicuramente a tutti voi potrebbe continuare ma eh non intendo farlo mi mi fermo qui mi sembra di avere detto già abbastanza ehm quello che appunto è abbastanza certo e l'ho un po' sintetizzato in questa slide e che eh appunto le unità di misura eh le ho chiamate così del tradizionale eh setting didattico eh sono state messe profondamente in discussione. Un'aula eh non è più un'aula nel senso che eh diciamo è in parte beh c'è stata la fase dell'aula completamente virtuale e eh adesso invece siamo nella fase eh di un'aula eh che è veramente difficile classificare proprio anche dal punto di vista concettuale perché l'aula nella quale noi lavoriamo eh è un'aula per metà eh virtuale e per metà reale eh è quasi appunto sospesa in uno spazio e in un tempo eh ma poi ne parlerò meglio dopo che sono difficilmente definibili ehm però ecco quello che è certo è che eh l'aula di oggi e non è più l'aula di ieri. Anche un'ora di lezione non è più un'ora perché eh come già vi avevo anticipato eh per questioni di turnazioni, di ingressi eh per evitare diciamo sovrapposizione nell'ingresso, nelle uscite delle classi beh si è dovuto passare a a un altro modo di computare l'ora eh l'ora di di lezione e e questo è successo e succedeva e continua a succedere diciamo eh delle volte anche nell'arco di due settimane cioè ci sono dei cambiamenti eh continui che che avvengono anche eh soltanto ogni quindici giorni e quindi per esempio ehm l'ora tradizionale di 60 minuti è stata portata a 50 per i ragazzi in presenza ed è stata portata a 40 per i ragazzi a distanza ehm in quanto loro non possono essere esposti allo schermo per eh consecutivamente per un numero eccessivo di ore. e naturalmente quello è che eh quello che è cambiato eh sono cambiate anche le interazioni sociali nel senso che eh le interazioni sociali eh all'interno eh dell'aula ma anche all'esterno insomma nei corridoi in quelli che erano eh i luoghi di aggregazione tipo cortili o le famose macchinette dove si andava a prendere a fare una pausa ehm ecco queste interazioni sociali sono diventate eh diversamente interattive in qualche caso eh c'è stata eh una diciamo una riduzione eh del tempo o dell'interazione ehm in qualche altro caso c'è una interazione che però eh è minima o comunque è estremamente eh controllata dall'utilizzo delle mascherine ehm alla impossibilità per esempio di fare merenda ehm e eh ovviamente eh anche eh mi riferisco all'interazione eh diciamo tra i ragazzi che seguono da casa e i ragazzi che sono presenti a scuola cioè anche questo eh diciamo questa questa sorta di schizofrenia di scissione eh non è facilmente eh digeribile non è facilmente gestibile. Ehm in conclusione possiamo dire che in pochi mesi eh si è andati incontro eh sia a una delocalizzazione eh che ad una dematerializzazione eh dello spazio scolastico consueto attraverso appunto la migrazione su piattaforme digitali e eh anche ad una frattumazione del tempo di lavoro e di studio come dicevo prima l'unità oraria è stata fortemente modificata. Ehm ho voluto usare eh questa espressione eh setting didattico ehm perché ehm ovviamente non ho nessuna pretesa di eh diciamo fare della psicanalisi spicciola non sono uno psicanalista non intendo quindi diciamo fare della psicanalisi spicciola applicandola alla scuola però il termine setting eh diciamo ehm è certamente derivato da quell'ambito ehm io non sono interessato diciamo a eh ripercorrere o a descrivere eh gli aspetti di transfert o di controtransfert che si possono realizzare tra i docenti e gli studenti ma mh mi interessa il termine setting inteso come cornice appunto come contesto o come campo ehm perché quello che noi eh viviamo eh diciamo durante la nostra permanenza a scuola è un passaggio da eh da una classe a un'altra da un setting ad un altro ehm ovviamente ci sono delle cornici più ampie eh dei campi eh più ampi e dei campi più ristretti ehm ognuno di essi però si configura come eh un'area spazio-temporale relativamente protetta eh o semistabile eh all'interno e all'esterno della quale emergono eh appunto alcuni effetti di reciprocità eh io mi scuso se eh uso questi termini però mh diciamo sto anche cercando di chiarirli è un po' un tentativo quello che ho fatto di tradurre eh la mia esperienza ehm ricorrendo ad una terminologia che mi aiutasse eh appunto a interpretare a spiegare meglio quello che che stava succedendo e quindi magari possono essere dei termini magari un po' strani o comunque poco consueti ma alla fine dei conti descrivono delle cose molto comuni eh e molto per chi fa il nostro lavoro diciamo così molto alla portata di mano ehm questi setting appunto questo setting eh sono dei campi in cui si determinano degli effetti di reciprocità eh ho mutuato questo questo termine da anche in questo caso da un importante sociologo che si chiama Georg Simmel che appunto usa questa parola tedesca in realtà che è Wechselwirkung dove si eh quello che conta ehm non sono tanto eh i comportamenti dei singoli individui eh o meglio non sono tanto i singoli individui presi in quanto tale in quanto tali ma eh il tipo di rapporti reciproci e soprattutto eh gli effetti che queste eh interazioni hanno su ognuno di essi ehm perché eh queste interazioni appunto tra individui eh si condizionano eh e si autoalimentano eh ed è interessante appunto cercare di osservare eh proprio questi questi effetti di reciprocità ehm lui appunto la definisce eh come la coesistenza di individui che hanno tra loro rapporti reciproci e che genera in ciascuno di essi eh ciò che non si potrebbe spiegare a partire da uno solo è esattamente quello che diciamo ho cercato di eh mettere a fuoco ok ora mi sono posto alcune domande che sono quelle che ho già anticipato a voi poc'anzi nella scuola dell'era post pandemica come è cambiata eh la definizione standard eh di interazione sociale eh diciamo che una definizione abbastanza accettabile abbastanza comprensibile anche piuttosto elementare è quella che ci fornisce Goffman e che ehm concepisce l'interazione sociale nei termini di una relazione faccia a faccia basata appunto sulla copresenza fisica beh logicamente eh con il lockdown o con una didattica ibrida eh questa copresenza fisica e questa relazione faccia a faccia eh beh eh sono entrate profondamente in crisi ehm quindi mh la domanda è eh che cosa accade eh sul piano degli effetti di reciprocità eh quando viene a mancare eh l'interazione faccia a faccia basata sulla copresenza fisica eh per adesso faccio le domande poi cercherò di dare qualche risposta e poi eh che cosa accade eh sul piano degli effetti di reciprocità quando con la didattica digitale ibrida una metà della classe è fisicamente copresente col docente e l'altra metà partecipa a distanza sembrano delle eh forse eh classificazioni un po' sottili però vi assicuro che corrispondono a esperienze e a sistemi di di comportamento eh appunto a effetti di reciprocità molto diversi ehm sottolineo didattica digitale ibrida perché quella che noi facciamo non è una didattica digitale mista ma è una didattica digitale ibrida eh non c'è una alternanza diciamo tra eh il fare scuola in presenza e il fare scuola a distanza c'è una contemporaneità eh in qualche senso ok eh del fare scuola eh con persone in presenza e con persone a distanza e questo è eh a mio modo di vedere eh proprio lo scenario peggiore per certi aspetti eh lo scenario più difficile eh da gestire e da rendere eh performante appunto sia per i docenti che per gli studenti ehm infatti mh adesso mh prendo comincio ad analizzare eh prima ho detto l'aula non è un'aula la lezione non è una lezione insomma entro un po' più nello specifico in fondo se ci riflettiamo un attimo eh che cosa significa avere un'aula ehm deve essere per forza uno spazio fisico o può essere anche uno spazio virtuale ehm beh io direi che eh in effetti per avere un'aula i soggetti coinvolti nell'attività didattica eh devono poter contare su quella che che gli psicoanalisti chiamano costanza dell'oggetto eh qui appunto ho fatto riferimento eh ad un concetto di Winnicott ehm ovviamente per lui l'oggetto in questione era la madre ma eh qui non si tratta certamente della madre ma si tratta però di un ambiente che contiene e e questo ambiente che contiene che inquadra diciamo deve essere costante perché se non è costante ehm si creano tutta una serie di disordini e di eh difficoltà eh nell'apprendimento e anche nella programmazione eh del lavoro e io posso dire che che questo oggetto questo oggetto ambiente scuola appunto eh non è costante perché eh con il susseguirsi dei dpcm e con il susseguirsi diciamo di percentuali diverse di presenza e di assenza e di ehm diciamo unità orarie che cambiano così frequentemente beh questa cornice appunto questo ambiente di apprendimento perde la sua permanenza e eh e crea eh una serie di di problemi ehm l'aula infatti intesa come ambiente di apprendimento quindi attenzione qui quando parlo di ambiente di apprendimento non sto eh necessariamente parlando di un ambiente fisico può essere un ambiente di apprendimento anche interamente virtuale eh il problema comincia ad esserci quando l'ambiente di apprendimento è sia virtuale che reale lì il problema eh diciamo è più sensibile e comunque eh l'aula intesa come ambiente di apprendimento deve essere un oggetto stabile sul quale appunto i docenti e gli studenti possono effettuare eh i loro investimenti libidici e sì perché eh non si tratta soltanto di trasmettere delle conoscenze ma si tratta anche di trasmettere un desiderio di conoscere e quindi eh se l'oggetto non è costante se l'ambiente di apprendimento non è costante questo trasferimento del desiderio eh di apprendimento riesce molto meno bene eh ho citato qui una frase di un famoso libro di Recalcati che ci dice appunto che sapere non significa solo accrescere le conoscenze ma significa anche potenzia non significa soltanto potenziare la propria istruzione ma anche e soprattutto imparare ad aprirsi all'apertura del desiderio aprire attraverso questa apertura altri mondi rispetto a quelli già conosciuti operazione diciamo che ha una sua eh difficoltà in tempi normali ma che eh diciamo in tempi come questo può essere ancora più compromessa quindi mh in conclusione eh l'aula può essere uno spazio fisico o virtuale ciò che conta è che sia permanente e che appunto si configuri eh come una cornice di connessioni sufficientemente buona eh potrei anche qui eh un po' soffermarmi sulla questione della connessione eh nel senso che eh se la connessione è instabile e molto spesso nelle nostre scuole lo è perché eh diciamo le reti non supportano il peso di così tante classi connesse ok beh questa cornice di connessioni non è sufficientemente buona e quindi eh la comunicazione eh diciamo si eh si interrompe non funziona in modo fluido eh quindi la mia idea è che la didattica digitale ibrida come ho già detto è quella che va andrebbe proprio evitata perché tende a minare appunto la cornice dell'apprendimento che ha bisogno delle caratteristiche che dicevo prima ehm anche un diciamo un rito abbastanza così eh tradizionale della scuola il rito dell'appello eh è profondamente cambiato perché in effetti eh nella scuola pre-pandemica quando il professore in prima ora faceva l'appello bastava rispondere presente e ehm tutto sommato era abbastanza chiaro che cosa volesse dire ehm adesso eh diciamo la parola presente eh può avere diversi significati forse la parola che eh tutto sommato ha mantenuto lo stesso significato è assente ma la parola presente eh invece può significare diverse cose e noi come insegnanti diciamo come operatori della scuola siamo chiamati a riflettere su su queste sfumature eh della presenza eh non c'è più un solo tipo di presenza con cui avere a che fare ma ce ne sono diversi allora abbiamo eh una presenza eh nel senso di copresente fisicamente nella classe con il docente abbiamo una presenza nel senso di copresente a distanza con la classe e con il docente poi eh diciamo i presenti in classe sono fisicamente copresenti tra loro ma lo sono anche a distanza con i loro compagni a casa eh e questa eh diciamo copresenza funziona più o meno bene a seconda dei mezzi dei dispositivi che si usano e lo stesso discorso vale per i presenti a distanza che sono in questo caso virtualmente e non fisicamente copresenti tra loro eh ma anche con i loro compagni a scuola e con il docente quindi in sostanza nell'era pre pre covid vi era eh una sola modalità di presenza eh nell'era post pandemica si si danno diverse sfumature della presenza e quindi dell'interazione sociale e quindi della reciprocità degli scambi si va dal massimo della copresenza faccia a faccia quella che a cui tutti eravamo più o meno abituati a un minimo della copresenza virtuale eh in cui appare solo l'icona dell'utente collegato perché come sappiamo alcuni studenti o si connettono e poi spengono la webcam oppure magari con le migliori intenzioni cercano di seguire ma la connessione funziona male e quindi il docente dal suo lato vede soltanto l'icona ok neanche il volto ehm tali modalità della presenza si intrecciano in uno stesso tempo eh ma non nello stesso spazio si tratta di un'enorme complessità da gestire con prassi relazionali e flussi di informazioni spesso coerenti eh ed instabili eh questa è una parte un po' più filosofica che lascio magari cercherò di approfondirla ancora cinque minuti nel contributo infatti e per eh diciamo dire sostanzialmente questo l'esperienza che abbiamo vissuto ci ha eh forse fatto riflettere di più ci ha fatto riprendere in considerazione quella che è la materialità del fare scuola ehm prima quando questa materialità era data per scontata non ci pensavamo neanche eh adesso che invece questa materialità è stata messa in discussione eh beh ci pensiamo di più cosa intendo per materialità eh del fare scuola beh intendo appunto l'intreccio dei corpi l'intreccio dei tempi l'intreccio degli spazi eh le tecnologie gli artefatti gli oggetti gli zaini le lavagne eh diciamo tutto questo entra eh nella materialità del fare scuola le relazioni interpersonali gli affetti appunto le parole e ora qui non si tratta di eh essere né apocalittici né integrati cioè non si tratta né di dire che eh i mezzi digitali sono un male né di dire che sono un bene assoluto ehm sono quello che sono e in fondo eh nella materialità della scuola nella materialità del fare scuola un po' di tecnologia c'è sempre stata e sempre ci sarà cioè l'apprendimento per ehm per essere compiuto per essere effettuato ha bisogno di mediatori e e questi mediatori possono essere più o meno sofisticati più o meno complessi ma non c'è apprendimento senza dei mediatori la cosa importante è che eh non ce ne sia solo uno appunto non ci sia solo un mediatore eh per esempio quello mediale ma ce ne siano anche tanti altri eh la pluralità eh dei mediatori dell'apprendimento eh la via migliore ehm ho qui e concludo diciamo elencato eh quelli che secondo me dovrebbero essere i fattori che in qualche modo consentono di realizzare una lezione eh partecipata l'ho chiamata così anche ehm in una didattica come quella che stiamo affrontando e li leggo velocemente poi casomai ci ritorniamo sopra eh sono fondamentali la bidirezionalità del flusso comunicativo cioè soprattutto nella didattica a distanza eh deve essere quasi eh impostato più cioè non c'è il professore che parla e gli studenti che ascoltano e poi alzano la mano per fare la domanda e il professore risponde ma una sorta di circle time in cui diciamo viene lanciato un un tema un argomento e eh e si crea una circolarità eh del discorso ehm comunque è fondamentale nonostante la distanza cercare eh l'interazione tra le persone il fatto di vedersi e di parlarsi di avere un ritmo regolare hm nell'apprendimento quindi di non cambiare continuamente orari e unità orarie di lavoro ehm e poi eh appunto di favorire un'attenzione fluttuante e una risonanza su questi due concetti che effettivamente richiederebbero un po' più di tempo magari eh ci ritorno sopra se ci sarà voglia insomma durante la discussione ehm oppure se ho due minuti provo a dirli soprattutto l'attenzione fluttuante mi poteva interessare di più. Forse li approfondirei adesso. Esatto. In modo tale che. Ok va bene allora lo dico molto velocemente ehm più che altro mi interessa il concetto di attenzione fluttuante e che ehm in effetti ehm beh non è che deve essere utilizzato solo con la didattica a distanza può essere benissimo impiegato anche nella didattica in presenza ehm beh di solito quando parliamo di attenzione parliamo di un soggetto che si concentra eh in modo definito su un solo oggetto. Ecco eh certo questa è l'attenzione eh diciamo deliberata l'attenzione volontaria però eh ci possono essere e appunto anche qui eh ho fatto riferimento degli psicanalisti ci può essere anche un tipo di attenzione più libera più fluttuante ehm più oscillante diciamo che eh quindi non esiga eh diciamo la concentrazione su singoli oggetti ma che favorisca eh piuttosto la nascita di pensieri spontanei eh di pensieri magari ancora non pienamente nati eh e questo vale sia per il docente che ehm che per lo studente molto spesso l'attenzione deliberata diciamo eh è una limitazione eh delle possibilità o degli stimoli a cui si potrebbe eh ci si potrebbe dedicare e un tipo una modalità di attenzione fluttuante invece può sviluppare eh la creatività e anche la riflessione. Ecco direi che può bastare. Sì. Allora ringrazio il professor Valle credo che questa riflessione sia stata molto interessante perché in qualche modo ha cercato di eh diciamo mettere un po' a sistema quelli che sono stati eh diciamo questi ultimi mesi oddio questo ultimo anno. Certo. È più corretto ormai dire questo ultimo anno come il fatto che appunto sia cambiata in qualche modo la cornice dell'ambiente di apprendimento come sia cambiato eh siano cambiate le dinamiche relazionali, sia cambiato il concetto di presenza. Credo però che in qualche modo si sia come dire sia venuta fuori dentro la scuola quella che per usare sempre termini psicologici sia una capacità di resilienza. Sì sì. La resilienza nel riuscire ad adattarsi anche in situazioni eh come dire più complesse eh come può essere una didattica integrata che eh diciamo rappresenta per la riflessione eh da lei riportata proprio come dire il momento cioè diciamo l'esperienza più complessa di quelle che sono state fatte. Credo che eh diciamo sia come genitore lo dico in primis ma anche come ricercatore eh sarebbe molto interessante diciamo intersecare queste riflessioni viste dal punto di vista della scuola del dentro la scuola come docente intersecarle con come è stata vissuta come sono stati vissuti questi elementi dagli studenti e mi permetto di dire che in qualche modo anche il genitore ha fatto la sua parte perché diciamo a suo modo eh è diventato un attore ancor più protagonista soprattutto però ovviamente nei gradi scolari che riguardano la secondaria. Certo. Verissimo. Verissimo. Ringrazio ancora anche se la scuola ha un po' colonizzato la famiglia così cioè nel senso che prima erano due ambienti. Ma è stata una colonizzazione reciproca secondo me per per mille ragioni perché si entra nelle case di ciascuno appunto in qualche modo quindi eh ma ne riparleremo dopo. Certo certo certo. Grazie. Eh delle altre ringraziamo ancora il professor Valle diamo a questo punto eh la parola a eh la dottoressa Freddano al professor Graziani al professor Babini per ascoltare il loro intervento che invece diciamo ci porta in un appunto eh ci focalizza su una tematica diversa eh dove il protagonista è sempre il docente ma eh diciamo ci fa entrare in un discorso che riguarda un po' la percezione della come viene vista la matematica eh degli studenti dal punto di vista del docente. Ok allora io vado con la condivisione delle slide. Sì 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 e vediamo qua dovrebbe essere questo. Ok e poi do eh la parola a eh Ivan Graziani che eh dovrebbe incominciare. Aspetta perché non vedo la condivisione non so se voi la vedete. Sì 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 sì. Ah sì ok io ho una visualizzazione diversa. Grazie. Ok allora eh sì infatti è una ricerca che segue un'altra ricerca che abbiamo condotto sempre noi tre eh sul eh la visione della matematica da parte degli studenti. Infatti eh dagli esiti, dai risultati di quella ricerca ci siamo incuriositi per sapere cosa ne pensava l'altro partner dell'azione eh di insegnamento apprendimento che coinvolge appunto insegnanti e studenti perché molto spesso si parla di insegnamento e di apprendimento separati ma se c'è insegnamento senza apprendimento vuol dire che qualcosa non ha funzionato. E qualcosa non funziona perché la visione degli studenti eh ci ha portato a eh capire che la matematica piace sempre di meno a partire dalla terza primaria in poi. E anche ehm crescono la paura, l'ansia eh e la consapevolezza che per andar bene in matematica bisogna essere in qualche modo portati. Questo appunto eh ci ha portato a pensare a un questionario da eh somministrare ai docenti facendo le stesse domande eh chiaramente dal loro punto di vista. Eh proprio alcune domande erano proprio identiche a quelle degli studenti. Altre invece erano un pochino più finalizzate a ehm comprendere anche da quanti anni insegnavano, quali materie insegnavano, in quale settore eccetera. Il questionario è stato somministrato chiaramente perché eh come diceva eh lei prima è un anno che ci siamo dentro in questa situazione. Praticamente era più o meno marzo dell'anno scorso e più o meno marzo di quest'anno ci siamo ancora dentro. E quindi l'abbiamo somministrato attraverso un modulo Google che è stato poi eh condiviso con colleghi in tutta Italia. Anche perché io facendo parte dell'equip formative territoriali eh ho una chat che tocca praticamente tutte eh l'equip del del della nostra nazione e quindi l'abbiamo condiviso. Adesso se passa alla seconda slide vediamo proprio che sono state coinvolte praticamente tutte le regioni, chi più chi meno, chiaramente l'Emilia Romagna la fa da padrona perché sia io che Stefano siamo di questa regione e quindi i nostri colleghi hanno partecipato in massa. Però abbiamo avuto una buona ehm adesione un po' da tutte le eh le regioni e anche da tutti gli ordini di scuola perché come vediamo abbiamo sia insegnanti della scuola dell'infanzia che del eh primaria, della secondaria di primo grado, gli istituti i mh secondari di secondo grado come liceo, istituto tecnico, istituto professionale ma anche centri di formazione professionale, l'università e anche eh altri che erano in quiescenza, felicemente in quiescenza. Ehm dal campione notiamo eh un eh uno spostamento ma quello lo sappiamo già nella scuola eh tra maschi e femmine, la scuola è prettamente femminile quindi mi stupisco che ci sia addirittura quasi un quarto di maschi che abbia risposto, quello lì è già più, fa già più notizia a quello. Quindi per passare alla slide successiva eh in cui parliamo appunto del fatto che eh la matematica è ahimè una materia che ehm pur essendo inserita nelle quattro discipline STEM che dopo sono diventate anche STEM perché ci hanno messo anche l'arte dentro e ehm sono state fatte numerose ricerche in didattica della matematica per saper come insegnarla anche meglio e tutto il resto. Chiaramente se non si torna a a parlare di matematica nata per risolvere problemi eh eh questo francamente sarà un po' difficile. La literacy matematica di Ox e Pisa e eh qui c'è in Valsi Open da pubblicizzare perché in effetti è un sito molto performante da questo punto di vista si trovano tante notizie tra cui appunto anche quello relativo alle literacy matematica eh dice una serie di cose tra cui gli studenti devono abituarsi a formulare, impiegare, interpretare la matematica in varietà di contesti e quindi questa qui è proprio la competenza matematica vera e propria che nasce eh eh dai problemi che stimolano tutte queste cose tra cui anche il ragionamento e l'uso di concetti e anche procedure e strumenti matematici per spiegare e prevedere anche dei fenomeni e questo eh è interessante anche vedere come sia evoluta negli anni la definizione proprio anche di matematica, di competenza matematica in Ox e Pisa perché si vede proprio una crescita eh notevole. Qui altre cose non le sarei a dire tanto se le possono guardare. Questo è il ehm il ehm l'altro esito mille negli studenti avevamo avuto mille settecento ventisei rispondenti con settantaquattro classi questa è la ricerca che abbiamo portato l'anno scorso quarantaquattro per cento di studentesse e eh comunque tutti i dati eh che potete vederli mh un po' di meno nella scuola primaria ma eh scuola secondaria di mh primo grado e di secondo grado una buona percentuale. Le finalità dello studio erano appunto quelle che ho detto prima conoscere la visione della matematica ma anche perché la visione è quella. I principali risultati sono quelli che eh gli studenti vedono la matematica più che altro come risolvere, come fare calcoli mentre pochi la vedono come quello per cui è nata cioè risolvere problemi. Differenze di genere che abbiamo cercato di indagare anche in questa eh ricerca eh hanno portato a vedere comunque che l'ansia per errore non coinvolge solamente eh le femmine come si potrebbe pensare perché sono più delicate eh questo è il disegno che ci danno i vari cliché che ci sono in giro mentre eh l'ansia viene a quelli che ci tengono e quindi possono essere indifferenti maschi e femmine e quelli che hanno studiato poco che possono essere indifferenti maschi o femmine quindi quell'ansia viene anche da quello. La matematica piace appunto eh gli studenti più piccoli piano piano piace un po' di meno. Possibili sviluppi sono appunto questi e a questo punto darei la parola a alla mia collega che ha fatto la ricerca e ha fatto tutta l'elaborazione dei dati. Ringraziamo. Infatti Ivan volevo prima un attimo intervenire per dirti che noi soprattutto ci siamo occupati della raccolta dati che è la parte divertente ma diciamo che il lavoro grosso più pesante e forse anche più noioso è toccato a Michela quindi noi in qualche modo ci siamo divertiti forse lei un po' di meno. Poi altra cosa che volevo far notare è che nell'altra indagine abbiamo raccolto dati solo in Emilia Romagna e questa volta noi ci siamo un attimo evoluti abbiamo raccolto dati un po' in tutta Italia quindi con i moduli di Google siamo riusciti ad allargare il campo speriamo adesso probabilmente ci sarà una prosecuzione anche in questa ricerca di poter aver dati da tutta Italia non solo dall'Emilia Romagna insomma con questa laudità. Infatti è uno degli effetti del Covid perché abbiamo parlato sempre del Covid come effetto negativo ma molti docenti hanno preso in mano un computer per la prima volta perché hanno dovuto fare la didattica a distanza e quindi anche quello diciamo che non tutto il male è venuto per nuocere. Quindi colgo l'occasione per ringraziare veramente di cuore Michela che ha dato questo mega lavoro. Bene grazie no sono io a ringraziare voi per avermi coinvolto l'anno scorso nell'avventura di fare questa rilevazione rivolta agli studenti e poi che quest'anno mi avete riproposto di fare una versione che appunto andavo ad esplorare e quindi ad approfondire i risultati che sono emersi proprio l'anno scorso dal punto di vista dei docenti perché questo è stato sicuramente un elemento molto interessante. Infatti rispetto ai possibili sviluppi che noi avevamo puntualizzato anche nella presentazione l'anno scorso quello che in qualche modo siamo andati a voler approfondire è proprio cercare di capire qual è l'atteggiamento quali sono le credenze quali sono le opinioni che i docenti hanno nei confronti appunto degli studenti e quindi proprio con riferimento a quello che è l'atteggiamento nei confronti della matematica degli studenti. e quindi veniamo appunto allo studio di cui oggi restituiamo qui alcuni risultati che proprio per la ricchezza anche dei dati che sono stati raccolti potremmo definire in questo caso preliminari. In questo caso appunto degli 843 docenti che di cui appunto i colleghi hanno relazionato prima sono stati praticamente selezionati quei docenti che hanno dichiarato nel questionario di essere insegnanti docenti di matematica. In questo modo abbiamo cercato, che è appunto un 92%, quindi in questo modo abbiamo cercato di depurare rispetto a insegnanti docenti di altre discipline per vedere proprio quale fosse l'atteggiamento dei docenti di matematica. E quindi siamo arrivati alla selezione di 764 docenti di cui 74% donne con un'età media di 48 anni e poi distribuiti in 20% nella scuola primaria al 31% nella scuola secondaria di primo grado e poi il resto, la metà di questo insieme nella scuola secondaria di secondo grado. Come anni di insegnamento abbiamo visto che gli anni di insegnamento medi sono circa 20 e abbiamo provato nel nostro questionario che abbiamo proposto di riproporre in modo quasi fedele proprio le domande che sono state poste agli studenti, proprio con la curiosità di andare a vedere se vi fossero delle corrispondenze o degli atteggiamenti pressoché simili. La cartina ovviamente rappresenta la distribuzione percentuale dei docenti rispondenti in questo caso di matematica e come possiamo notare c'è una distribuzione su tutte le regioni con ovviamente delle differenziazioni e delle incidenze più particolari che ovviamente rispecchiano anche quelle dell'insieme degli 843D che abbiamo visto precedentemente. E veniamo appunto alla prima domanda, i risultati sulla prima domanda. La prima domanda che abbiamo rivolto ai docenti era questa. Secondo lei per gli studenti la matematica è soprattutto? E diciamo che la sorella di questa domanda rivolta agli studenti è per te la matematica è soprattutto? Allora, le barre rosse evidenziano le risposte, la percentuale di docenti che rispondono per ciascun item mentre le barre blu rappresentano invece gli studenti. E qui è interessante vedere che l'incidenza del 72% dei docenti è sull'idea di fare calcoli e in termini percentuali è vero che le distribuzioni sono differenti perché siamo andati a selezionare per gli studenti soltanto gli studenti dell'Emilia Romagna però certo è interessante che comunque ci sia un'incidenza così molto più superiore tra i docenti rispetto agli studenti e poi che vi siano altre dimensioni che magari i docenti non hanno considerato, potremmo dire, quasi per nulla mentre invece sono ritenute rilevanti dagli studenti come ad esempio l'aspetto relativo alla materia indispensabile per il progresso dell'uomo per cui nei docenti riscontriamo soltanto un 5% a fronte del 41,5% degli studenti che selezionano questa modalità. Nella domanda avevamo posto la possibilità di individuare tre elementi prioritari quindi avevano la possibilità di selezionare tre di questi aspetti e altre differenze sono anche l'idea che c'è un'incidenza superiore tra i docenti nell'affermare che la matematica sia una materia per cui bisogna essere portati a fronte appunto la metà dei docenti risponde in questo modo a fronte di un 38% degli studenti ma anche l'aspetto relativo alla precisione è un altro elemento che secondo le credenze, le opinioni degli docenti è un'idea per cui gli studenti pensano che la matematica sia soprattutto essere precisi mentre questo poi invece si riflette in questi studenti che sono stati interrogati diciamo da questo questionario questo si riproduce soltanto su uno, ogni quattro studenti e anche l'idea dell'ansia per l'errore quindi ecco vediamo già come in qualche modo già in questa domanda si caratterizzano per atteggiamenti da una parte e opinioni, atteggiamenti quelli degli studenti opinioni quelle dei docenti in modo comunque differente e qua siamo ancora su una base totale e siamo andati poi ad esaminare le differenze all'interno dell'insieme dei docenti per vedere se vi fossero delle differenze rispetto ai vari segmenti di scuola quindi tra scuola primaria, scuola secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado che poi insomma sono il nostro insieme di docenti intervistati depurato e qui sono riportate quegli item che hanno rilevato una differenza più significativa rispetto alle altre proprio per questi fattori e qui vediamo come gli atteggiamenti tra i docenti cambino perché ad esempio l'idea di risolvere i problemi ha un'incidenza maggiore tra i docenti della scuola primaria rispetto ai docenti delle scuole secondarie ma anche l'idea della gioia è un elemento che la matematica per gli studenti sia soprattutto gioia che è praticamente presente in una misura piuttosto contenuta dei docenti ma potremmo dire esclusivamente della scuola primaria mentre vediamo che invece l'ansia per l'errore aumenta in modo considerevole tra i docenti delle scuole secondarie di primo grado ma ancora più poi nella scuola superiore e anche la convinzione che sia una materia che appunto gli studenti pensino che sia una materia per cui bisogna essere portati questo elemento lo ritroviamo soprattutto in modo più preponderante nella scuola, nelle scuole superiori e nelle scuole secondarie mentre anche l'idea della materia indispensabile per il progresso dell'uomo è un'altra dimensione insieme a quella della gioia che soprattutto si riscontra come idea tra i docenti della scuola primaria siamo andati a vedere poi anche le differenze proprio per questa domanda anche per l'indirizzo di scuola secondaria di secondo grado e anche qua è interessante notare come vi siano delle differenze tra i docenti dei licei, degli istituti tecnici e degli istituti professionali e in questo caso vediamo che ad esempio l'idea che per gli studenti la matematica sia soprattutto risolvere problemi è prevalente nei licei mentre che sia ansia per l'errore la ritroviamo soprattutto tra i docenti degli istituti professionali anche dei tecnici e meno nei licei altresì anche l'idea che la matematica per gli studenti sia soprattutto essere precisa è un altro di quegli elementi che riscontriamo nella metà dei docenti che appunto sono degli istituti tecnici e degli istituti professionali mentre questa è una percentuale inferiore rispetto ai licei proseguiamo con la seconda domanda nella seconda domanda abbiamo chiesto appunto per essere bravo uno studente che cosa deve fare e di nuovo qui la barra rossa indica le risposte degli studenti e la barra blu indica invece la percentuale di rispondenti tra i docenti e in questo caso noi notiamo che sicuramente c'è una tendenza ad avere delle risposte diciamo più simili ma l'aspetto che emerge è sicuramente il fatto che alcuni elementi che praticamente i docenti si concentrano sostanzialmente sui primi due aspetti cioè quello del saper ragionare e dell'impegnarsi mentre possiamo dire che invece sugli altri elementi come ad esempio l'idea che per essere bravo uno studente debba essere portato per la materia oppure essere veloce nel cane i calcoli e poi vabbè troviamo anche percentuali minime nell'essere intelligente e essere fortunato sono elementi che invece riscontriamo praticamente soltanto tra gli studenti è una misura davvero molto minima tra i docenti non emergono differenze significative per segmento di scuola ma emergono ad esempio delle differenze tra docenti di diversi indirizzi di scuola secondaria di secondo grado in particolare qui l'idea che per essere bravo uno studente debba saper ragionare la troviamo soprattutto nei licei in misura inferiore tra i docenti degli istituti tecnici in misura ulteriormente inferiore in quelli degli istituti professionali gli istituti professionali sono la barra grigia i docenti dei tecnici sono la barra rossa e i docenti dei licei la barra blu mentre vediamo che invece cambia proprio l'atteggiamento rispetto alla dimensione dell'impegno per cui secondo prevale nella metà dei docenti di istituti professionali direi che per essere bravo uno studente debba impegnarsi e questo è una credenza che comunque diciamo diminuisce soprattutto come percentuale tra i docenti dei licei altri elementi però che sono sempre significativi ma che comunque interessano delle piccole percentuali e che evidenziano comunque delle differenziazioni sono la dimensione ad esempio della convinzione che per essere bravo uno studente debba non fare errori oppure che per essere bravo uno studente debba essere veloce nei calcoli l'altra domanda che abbiamo approfondito era il motivo principale per cui uno studente può avere difficoltà in matematica e quindi il docente doveva individuare appunto quale fosse questo motivo di difficoltà e la domanda al questionario rivolto agli studenti invece chiedeva agli stessi quando hai difficoltà in matematica quale pensi sia il motivo principale ecco di nuovo qui come diciamo nella precedente domanda riscontriamo sicuramente una maggiore scusate allora questa è un doppione e vado direttamente a questa perché è una ripetizione e qui siamo andati a vedere quali sono le differenze significative per segmento di scuola e abbiamo notato che soprattutto il motivo principale per cui uno studente può avere difficoltà in matematica è da una parte lo scarso impegno soprattutto nelle scuole secondarie rispetto alla scuola primaria e poi non avere detto invece all'insegnante che non aveva capito è un elemento sicuramente rilevante presente nella scuola primaria e poi scende, decresce diciamo tra i docenti della scuola secondaria di primo grado della scuola secondaria di secondo grado mentre l'idea delle lacune di base è praticamente molto è una percentuale minima di docenti della scuola primaria a meno del 10% e poi questa percentuale cresce con l'aumentare del grado di scuola nel quale questi docenti appunto sono inseriti mentre le differenze che abbiamo notato invece per indirizzo scolastico a livello di scuola secondaria di secondo grado hanno posto in evidenza delle differenziazioni appunto su alcuni aspetti che sono poi diciamo i medesimi per cui abbiamo già riscontrato delle differenze anche tra segmenti di scuola diversi con l'aggiunta dell'idea della paura di sbagliare che è una dimensione che abbiamo riscontrato in misura maggiore seppur con percentuali basse soprattutto negli istituti professionali e in quelli tecnici e meno nei licei mentre quest'idea delle lacune di base vediamo che prevale soprattutto tra i docenti degli istituti professionali e mentre questa idea invece dello scarso impegno è un qualche cosa che noi riscontriamo diciamo allo stesso modo tra i docenti dei licei e degli istituti professionali e leggermente superiore tra gli istituti tecnici il tema del non aver detto agli insegnanti che appunto lo studente non aveva capito invece soprattutto anche qui diciamo con una lieve decrescita in termini percentuali per indirizzo scolastico soprattutto nei licei e poi questo va a scendere a decrescere negli istituti professionali l'altra domanda che abbiamo posto è come viene vissuto dalla maggior parte degli studenti il momento di consegna di una verifica e questa di nuovo era posta agli studenti nel modo quando ti consegnano una verifica come vivi il momento precedente allora qui abbiamo trovato sicuramente una convergenza sull'idea dell'ansia vivere con ansia il momento prima il momento della consegna della verifica poi abbiamo trovato però abbiamo riscontrato delle differenze tra appunto tra le percezioni perché i docenti appunto sono in misura maggiore nel rispondere con curiosità e rispetto a quello che invece è stato affermato dagli studenti in altri casi con tranquillità e poi vediamo che soprattutto tra gli studenti era alta era presente una percentuale di studenti che diceva di vivere questo momento con rassegnazione e con terrore mentre questi due aspetti sono veramente misura molto contenuta molto minima tra i docenti la stessa analisi abbiamo condotto tra i segmenti di scuola differenti e abbiamo visto che l'ansia cresce al crescere del grado di scuola quindi la percentuale di docenti che dichiara questo aspetto soprattutto alla scuola secondaria di secondo grado l'idea della curiosità e anche la tranquillità decresce all'aumentare del segmento di scuola nel quale i docenti insegnano in termini proprio di percentuale e l'idea della speranza di essere andati meglio dell'altra volta quindi di nuovo ritorna a questa dimensione un po' fatalistica che la ritroviamo al crescere del segmento scolastico altre differenze significative abbiamo sempre questa domanda sono emerse anche tra indirizzi differenti questo lo vediamo ad esempio relativamente all'ansia che sembra essere un elemento dichiarato soprattutto dai docenti degli istituti professionali e degli istituti tecnici rispetto ai licei la dimensione della curiosità è un altro elemento che invece ritroviamo soprattutto tra i docenti dei licei e poi abbiamo misure veramente molto minime del terrore quindi questo in realtà questi ultimi due dati sono stati riportati perché il terrore è praticamente pressoché assente come percezione tra i docenti dei licei l'idea della tranquillità invece è praticamente assente tra docenti che appunto provengono dai istituti professionali quindi questi due elementi li ho ottenuti perché anche queste anche se sono percentuali molto minime è comunque interessante l'altro elemento interessante che poi abbiamo esaminato e che per ultimo qui presentiamo è che abbiamo fatto proprio una domanda relativamente ai docenti chiedendo ai docenti se nella loro esperienza avessero riscontrato differenze di atteggiamento tra studentesse e studenti nei confronti della matematica e diciamo anche con un po' di sorpresa praticamente hanno affermato di aver riscontrato differenze di atteggiamento il 13% dei nostri rispondenti e diciamo che questa percentuale si distribuisce in modo eco proprio nei tre segmenti scolastici tra docenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado dove appunto non vi sono differenze significative non emergono differenze significative per genere di docenti abbiamo visto che seppur abbiamo un quarto di popolazione appunto maschile comunque non ci sono differenze significative tra uomini e donne quindi tra diverse appunto di genere in questa affermazione mentre sembrerebbe che all'aumentare dell'età dei docenti aumenti la probabilità che si siano riscontrate differenze di atteggiamento tra studentesse e studenti nei confronti della matematica e questo elemento è certamente uno degli aspetti che andrà approfondito ma l'altro elemento sicuramente interessante è che invece emergono delle differenze significative tra indirizzi di scuola e qui vediamo che praticamente se andiamo a splittare per quanto riguarda il segmento della scuola secondaria di secondo grado le risposte troviamo che tra gli docenti del liceo il 31% di questi afferma di aver riscontrato delle differenze di genere tra gli studenti nei confronti della matematica mentre questa percentuale si riduce al 9% negli studi tecnici e poi al 2% negli studi professionali e qui concludiamo con quest'ultimo risultato che in realtà è una sintesi di quelle che sono le motivazioni con cui abbiamo chiesto ai docenti di spiegare perché secondo loro appunto ci fossero differenze di genere nei confronti della matematica e qui ovviamente ritroviamo dei light motive dove ad esempio appunto queste sono le testimonianze dei docenti dei licei dove appunto dicono che le studentesse sono scarsamente consapevoli delle proprie capacità si considerano spesso non portate verso la matematica oppure ci sono altri elementi che altre testimonianze che dicono le femmine sono più motivate i maschi hanno maggiori capacità di analisi delle situazioni da affrontare gli studenti maschi in generale sono più brillanti mentre le studentesse sono più studiose e si impegnano maggiormente i ragazzi sono più sbrigativi le ragazze sono più studiose le ragazze sono più metodiche i ragazzi sono più intuitivi le studentesse sono più ordinate riflessive, pazienti quindi ecco questi sono un po' una serie di elementi di testimonianze che hanno cercano in qualche modo di giustificare perché secondo loro vi sono differenze di atteggiamento nei confronti appunto della matematica tra studentesse e studenti e concludiamo dicendo appunto che questo confronto che tra studenti e quanto emerso dai docenti mette in luce differenze e somiglianze tra atteggiamenti che poi appunto sono quelli che siamo andati a studiare con il questionario studenti e le opinioni dei docenti e partendo dalla teoria per cui appunto le credenze le convinzioni che le credenze le convinzioni dei docenti possano comunque avere un effetto sugli studenti e sul loro rendimento e sviluppo e se vogliamo anche sulla loro transizione verso quello che ha le scelte l'orientamento anche in termini di scelta scolastica alla secondaria di secondo grado ma poi potremmo anche andare oltre anche rispetto appunto a quelli che sono i percorsi nell'alta formazione certamente è interessante andare a vedere come ci siano delle differenze anche e soprattutto all'interno dei singoli segmenti scolastici quindi sarebbe interessante focalizzarsi che ne so su un specifico grado alla scuola primaria o alla secondaria di primo grado che era uno degli aspetti ad esempio su cui ci si poteva ci sarebbe potuti focalizzare anche sulla dimensione studenti e vedere proprio come sono i vari punti di vista e come questi poi si sviluppano nell'attività pratica chiaramente ci sono elementi come abbiamo visto dove gli studenti si collocano in modo un po' più eterogeneo rispetto agli item mentre sembrerebbe quasi che in alcune dimensioni i docenti abbiano risposto per effetto un po' della desirabilità sociale e questo potrebbe anche sollecitare ad utilizzare anche altre tecniche di ricerca al di là del questionario ovviamente proporre dell'intervista o comunque degli approfondimenti proprio per ragionare rispetto a questo tipo di elemento che comunque dovrebbe essere facilitato anche rispetto a quello che è la possibilità di ancorarsi a delle esperienze effettivamente accadute e poi ecco questo tema delle differenze di genere che è un po' diciamo il nostro punto di partenza anche sugli studenti è interessante aver notato come ci siano state delle differenze negli atteggiamenti tra docenti di appunto indirizzi diversi e la scuola secondaria di secondo grado e questo ovviamente questi risultati arricchiscono quanto in precedenza già diciamo emerso rispetto agli studenti ma ancora di più ci convincono che sarebbe veramente un aspetto molto rilevante poter legare sia elementi appunto sia atteggiamenti degli studenti sia opinioni dei docenti e anche poi in termini di risultati di apprendimento sia l'effettivo rendimento ad esempio degli studenti nei vari percorsi e l'ideale sarebbe ecco poterlo fare anche in un'ottica di tipo longitudinale io ho concluso e vi ringraziamo per l'attenzione grazie grazie anche a Michela Freddano Ivan Graziani e Stefano Babbini per questo interessantissimo contributo denso di risultati di dati ce ne erano tanti io mi sono appuntata diciamo due elementi che mi hanno colpita particolarmente cioè il termine gioia e il termine curiosità legati alla matematica e quindi agli atteggiamenti diciamo che non mi stupiva il fatto che forse nella scuola primaria ci sia ancora una tendenza alla speranza che la matematica desti immediatamente gioia e curiosità in uno studente mentre nei gradi successivi diciamo la cruda realtà in qualche modo incombe su di noi e quindi diciamo si è meno propensi a pensare che ci sia un atteggiamento di questo tipo però è anche di chi è la colpa questa però no no ma non è solo quello fare matematica come gioco è un'attività che purtroppo la gamification e anche il game based learning non viene utilizzato dagli insegnanti dei gradi superiori questo perché perché comunque si fanno chili e chili di frazioni e di proprio calcolo letterale ma si dimentica che la matematica appunto dovrebbe stimolare a risolvere dei problemi e quindi proprio tutto quella cosa che anche presentare la matematica in maniera ludica anche attraverso dei problemi che possono divertire gli studenti e farli lavorare quello potrebbe portare un pochino più di gioia nel mondo della matematica non sono proprio così convinto che gli studenti con tutte le cose che hanno a disposizione tutti i mezzi che hanno a disposizione non troverebbero il modo di capire capendola anche un po' meglio la matematica amarlo un po' di più ma vedi Ivan voglio ricordare che io ho un amico che dice che la matematica nasce per risolvere problemi non per crearne lo conosci questo? lo lo io no volevo dire che comunque è vero il fatto della matematica io ricordo che ho preso classi che erano assolutamente terrorizzate da loro di matematica poi abbiamo iniziato un po' a risolvere dei piccoli problemini dei giochini si divertivano e quindi poi affrontavano l'ordine matematica in maniera un po' più felice non dico che si divertissero però siamo con meno tristezza le situazioni riusciamo a avere cioè il fatto che una volta mi ricorderò sempre che l'insegnante di educazione fisica era fuori che aspettava la classe che doveva portare in palestra e lo dicevano aspetti un attimo che dobbiamo finire perché stavano facendo un gioco matematico insieme a me e quindi l'insegnante di educazione fisica si era molto stupita del fatto che non volessero andare a fare ginnastica che rimanessero a fare della matematica perché appunto l'idea l'idea generale è quello che la matematica sia sofferenza e non sia divertimento io chiedo scusa nel frattempo purtroppo la mia connessione era un attimo crollata no dicevo legato proprio a quello che ho sentito prima non so se è stato detto poi successivamente ma l'appunto più serio che mi ero presa era proprio legato alle modalità didattiche cioè quanto queste modalità didattiche però influenzino gli atteggiamenti nei confronti della matematica cioè potrebbe essere interessante anche un approfondimento visto che c'è una prospettiva futura legata anche alle performance però anche cercare di capire quanto le diverse modalità di insegnamento che vengono applicate che in molti casi possono essere anche categorizzabili in qualche modo incidano su questi atteggiamenti nei confronti della matematica sia dal punto di vista del docente perché la riflessione di Aurelia scritta in chat mi sembrava molto interessante ma poi lascerò ad Aurelia la parola su questo ma appunto anche da parte dello studente cioè credo che sarà interessante andare a vedere magari aggiungere un pezzettino che riguardi le modalità didattiche rispetto alla matematica allora a questo punto abbiamo un congruo tempo per gli interventi non l'ho detto in principio e me ne scuso ma Aurelia ci ha preceduto in maniera eccezionale cioè se ci sono degli interventi diciamo tendenzialmente segnalateli in chat non siamo un numero molto grande quindi possiamo anche intervenire casomai in maniera puntuale in risposta però tendenzialmente se ci sono degli interventi magari così cerchiamo di mantenere le priorità nel dare la parola quindi io in chat al momento vedo correggetemi se sbaglio però l'intervento di Aurelia a cui darei la parola per spiegare anche un po' quello che ha già scritto nella chat no niente volevo fare in tanti complimenti ai tre amici perché li considero tre amici ovviamente anche noi Stefano e Michele e poi dopo dire che mi erano delle curiosità sentendo e cioè perché mi piacerebbe sapere o no cosa viene in mente sono cose che vedo difficili da realizzare statisticamente mi piacerebbe confrontare la visione della matematica di un insegnante con quella della matematica dei suoi studenti perché ho la sensazione che incida molto soprattutto parlo a livello di medie superiori adesso con i bambini è già più complesso studiare questo aspetto però ecco riuscire a pensare a delle domande che facciano emergere la visione latente cioè voglio dire io ormai se vado a chiedere ad un insegnante di matematica cos'è per te la matematica e gli faccio vedere i calcoli no i calcoli no ti dicono così poi quello che fanno io ho l'impressione che sia molto diverso e quindi non lo so come si possono fare delle domande scusate il termine che li freghino cioè che facciano emergere quella che è la visione reale della matematica che hanno e in qualche modo come si possa fare qualche studio piccolo per confrontare quella di un insegnante con quella dei suoi studenti così visto che vi dilettate di questi studi io vi invito è un invito a questi approfondimenti per il lavoro di quest'altro anno è chiaramente senza dire né agli uni né agli altri che ah certo perché se no se no il gioco non il gioco non funziona comunque no è interessante molto interessante questo perché sono convinto anch'io che molti di facciata dicono delle cose poi sono capitato anche in alcune classi di persone che dicevano quelle cose poi sono arrivate e erano un po' nel frontalismo sfrenato mi è capitato anche recentemente di leggere gli insegnanti quelli che dicevano servono a risolvere problemi adesso non mi ricordo il contesto perché con l'età perdo la memoria però il discorso era la statistica è sempre quella che noi riusciamo a fare allora non tornano le due cose perché se parlo di insegnanti delle superiori non è possibile che se tu pensi che ci siano degli aspetti anche legati a una cittadinanza attiva che sono importanti poi alla fine quelli che privilegi sono i calcoli perché mi dici che quello lì è quello che non ci arrivo mai si perde tutta quella funzione di manutenzione di cui si parla proprio nel grado 13 sono proprio quegli aspetti di manutenzione che dovrebbero essere mantenuti negli studenti tra cui la statistica ma vedi io ho una collega proprio questo discorso che per lei la matematica equivale ad algebra non c'è null'altro è un po' come ritengono i bambini che dicono facciamo geometria o facciamo matematica perché perché molti colleghi ritengono che la matematica sia algebra tutto il resto non è matematica quindi statistica si può evitare geometria vabbè anche quella bene o male insomma algebra quindi delle espressioni delle robe delle frazioni alzette di cose disumane e dicono scusami ma se tu gli fai la domanda vedi il prezzo scontato di un pantalone qual è il prezzo originale sapendo quanto è lo sconto che viene fuori in equazioni piccole non lo sanno fare perché non sanno impostare il problemino perché sono abituati a risolvere delle robe incredibili di calcoli disumani ma poi non hanno la praticità di risolvere il piccolo problema hanno perso i significati sì decisamente bene chiedo se ci sono altri interventi per entrambi gli inter diciamo i lavori presentati credo che sarebbe io vorrei aggiungere un elemento vai Michela no scusate perché nella mia presentazione di prima c'era una duplicazione della di una slide erroneamente e quindi diciamo che ho recuperato la slide che mette a confronto proprio l'aspetto dei docenti con gli studenti sulla sulle motivazioni che che si riferiscono proprio del del motivo di difficoltà principale che può avere uno studente secondo me questo è un aspetto importante proprio che ci può far vedere ve lo faccio vedere poi velocemente come è probabile che appunto i docenti rispondano per desiderabilità sociale molto spesso attraverso i questionari perché poi tra l'altro noi sulle sulle strategie didattiche a parte che sia stato un po' fregato dal coronavirus e l'emergenza sanitaria che un po' ha stravolto diciamo i piani ma abbiamo fatto una domanda molto semplice dove chiedevamo se loro utilizzavano una didattica frontale prevalentemente una didattica frontale una didattica laboratoriale abbiamo messo qualche altra strategia un po' particolare poi abbiamo messo altro specificare in pratica quella domanda lì non ha funzionato metodologicamente o comunque ha bisogno di approfondimenti perché praticamente la maggior parte dei docenti ha compilato l'altro specificare dicendo un po' e un po' e quindi chiaramente a noi ci viene difficile ha detto alterno la didattica frontale a quella laboratoriale giustamente proprio per rifarmi anche alla presentazione precedente noi siamo in una fase di forte cambiamento e transizione quindi c'è anche un bisogno di una sorta di riadattamento di quello che è appunto il setting didattico di cui si parlava anche prima però in questo caso questo tipo di domanda anche per i tempi con cui diciamo abbiamo potuto fare l'analisi perché il questionario è stato scaricato mi pare il 10 gennaio i dati quindi abbiamo avuto un po' anche poco tempo non era possibile fare poi delle inferenze su appunto queste affermazioni che diciamo la via di salvezza dei docenti è stata dire che alternano la didattica a quel punto bisognerebbe chiedere quanta didattica fai di un modo e quanta di un'altra ma percentuale però ecco velocemente vi volevo condividere questo screenshot proprio per eccesso di zelo che è quella slide che invece era insomma non avete potuto vedere perché c'era una ripetizione e qui vedete che c'è una concentrazione fortissima dei docenti di nuovo sull'idea dello scarso impegno non avere detto all'insegnante non aveva capito le lacune di base e meno inizia a decrescere sull'idea della paura di sbagliare mentre invece è molto più presente tra gli studenti come anche l'idea che il motivo principale sia non essere portato per la materia oppure l'insegnante troppo di esigenze e poco oppure aver avuto poco tempo e così via quindi però soprattutto quel 13% del non essere portato per la materia diciamo andrebbe anche attenzionato perché quello ovviamente poi incide sulle traiettorie sulle scelte scolastiche in future basta insomma questo le famose scelte di evitamento nella scuola superiore grazie Michela beh sulle scelte di evitamento io ne sono proprio un genitore protagonista perché ho una figlia che per il per la sua scelta postmedie l'ha fatta proprio per evitamento non per selezioni cioè come dire per una particolare passione per una materia però anche quello è un criterio no ma è un criterio sempre valido solo che ti dico ad esempio mia figlia che ama molto la matematica chissà perché succede ogni tanto che qualcuno profita in patria fa l'istituto tecnico in prima e seconda si arrabbiava perché non gli dava dieci in pagella aveva nove e mezzo di media in terza ha trovato un insegnante frontale due anzi forse tre punto zero è iniziato ad amare di più l'italiano perché l'italiano fa lezione con il debate e quindi fa una lezione con una metodologia attiva mentre lui entra spiega e basta lei comunque con lui va ancora bene viaggia sull'otto però ti dico la ama di meno la matematica ama di più l'italiano e questo mi fa sanguinare il cuore guardi io posso dire che siamo più o meno nella stessa condizione più un amore per il professore condivido che non tanto per la materia e anche questo secondo me risulta interessante beh l'occhio vuole la sua parte sì allora lascio la parola ad Asergenti che voleva fare una riflessione sugli studenti prego per quello che è stata la mia esperienza io adesso sono in pensione comunque anche se magari l'insegnante fa delle cose interessanti e quindi in classe gli studenti partecipano succede poi che nelle scuole io insegnavo in un istituto tecnico e quindi a casa dovrebbero studiare fare gli esercizi e studiare ed è quello molte volte la cosa che poi viene a mancare per cui mi dicono ma io avevo capito tutto a me piaceva quello che ha fatto e però dopo a casa non aveva fatto niente quando c'era il compito in classe chiaramente andava male fino a un certo punto ad esempio nel bienio loro mi dicevano ma nel bienio andavo benissimo io non avevo bisogno di studiare perché specialmente quelli bravi riescano a recuperare specialmente poi se sono soltanto calcoli di algebra e quindi imparano delle regolette e le sanno fare e se invece le cose diventano appunto risolvere problemi magari che c'è da applicare qualcosa diventa più difficile quindi è un problema abbastanza complesso nel senso che sicuramente c'è da intervenire su tutto un discorso sull'insegnamento che cioè io ricordo nel mio dipartimento le discussioni perché c'erano insegnanti che non facevano assolutamente geometria per cui poi arrivavano nel triennio quando si faceva geometria analitica e questi non sapevano nulla ricordavano qualcosa delle medie ma non quindi è abbastanza complesso c'è un problema da parte degli insegnanti ma c'è anche la mentalità da parte degli studenti che tutto sommato se uno ha la predisposizione per matematica può farla senza studiare e quindi poi le cose vanno come vanno insomma grazie grazie mille per il suo intervento ci sono altre curiosità no volevo solo fare un commento alla frase che mi è piaciuta perché quando si diceva il biennio e dopo infatti quando nel triennio iniziano i problemi il problema è proprio lì che non dovrebbero iniziare nel triennio i problemi da risolvere dovrebbero iniziare prima magari facili tranquilli ma non dovrebbero iniziare nel triennio tutto lì quello è vero perché poi ti dico vi dico mia figlia non è una che non studia perché lei l'ha sempre studiata la matematica quindi lei andava bene perché studiava al punto che spiega delle cose al suo amoroso che è in quinta e lei è in quarta quindi scusami Ivan però secondo me se qui sei un po' ingenuo innocente tu dice che spiega delle cose amorose poi quello che va che è amoroso te non lo dice magari Ivan è riuscito a farlo arrivare alla sufficienza e ti dico gli avrà spiegato anche altre cose però gli ha spiegato anche della matematica però appunto questo torna con il fatto che le modalità di insegnamento possono avere un gran peso sulle performance poi certo ma anche la peer education infatti è interessante esatto hanno fatto discussione tra pari anche perché tu sai che se uno raggiunge un risultato e ha un premio è più stimolato certo allora non so se abbiamo altre altre domande se non ce ne sono direi che possiamo ringraziare diciamo gli autori di questi interventi è stato un pomeriggio piacevole è come dire rivedere il setting scolastico attuale diciamo con dei riferimenti teorico psicologici molto interessanti devo dire che è stato molto stimolante perché permette proprio di appunto iniziare a codificare qualcosa che è nato per caso è nato per forza e in qualche modo forse a settembre era ancora chi pronto chi un po' meno però da un certo punto in poi tutti ci hanno dovuto fare i conti perché sono iniziate le quarantene sono iniziate le chiusure quindi tra DAD totale didattica integrata diciamo è diventato un po' il pane quotidiano credo che la scuola mai come quest'anno abbia vissuto questa forma di grande mutazione però ribadisco forse utilizzando sempre il termine psicologico della resilienza credo che sia un elemento che è emerso con forza in tutto il sistema scolastico proprio in quanto sistema per quanto riguarda il lavoro sulla matematica penso che sia sempre molto stimolante interessante parlare degli atteggiamenti che in qualche modo verso discipline complesse come può essere appunto la matematica perché abbiamo detto che la matematica cosa significa algebra geometria statistica cioè sono tanti pezzi che quando diciamo matematica insieme alle volte forse non ci rendiamo neanche conto che c'è tutto questo dentro e questo lo dicevate anche voi quando tutto sommato nella percezione immediata matematica significa fare i calcoli ma poi che questi calcoli portino diciamo a delle rappresentazioni matematiche specifiche diciamo non è così immediato nel come tipo di di pensiero io vi ringrazio quindi noi aspettiamo anche il futuro di questa di questi risultati vi ringraziamo per i risultati preliminari ringraziamo tutti voi mi suggerivano prima che in quest'ultima mezz'ora che diciamo sono magari in corso altre sessioni parallele potete anche assistere a chiedere di assistere insomma andare ad assistere ad altre ad altre sessioni io ringrazio tutti è stato piacevole e interessante passare questo pomeriggio con voi di